Siamo con Mr. Maggio della Stramminese dopo... Bravo Maggio! Hai schifo! Hai schifo! Ha vinto anche lui, dai! Pensa a te, anche i morti vincano! Lo riconfermiamo l'anno prossimo? Oh, il cazzo lo riconfermo! Allora, mister, una grande soddisfazione per una promozione ottenuta fino all'ultimo in tutti i sensi, perché vi siete complicati la vita con cinque minuti di follia. Mi ha fatto 80 minuti dove, davanti di tre gol, migliora in campo loro il portiere che ha fatto 3-4 interventi da Serie A, clamorose. Non voglio fare il presuntuoso, però potremmo essere... Ma lo sai, lo sai! Ma non mi è che questo! Sì, permette! Poteva essere 6-7-0, invece parliamo di cinque minuti dove veramente abbiamo... Non so il perché abbiamo abbassato il ritmo, abbiamo abbassato l'intensità e di concentrazione e purtroppo anche a questi livelli, se abbassi questi atteggiamenti qua, rischi di prendere gol e purtroppo è stato così. Mister, alla fine non era facile raggiungere questa promozione. Era un progetto che partiva da zero ad agosto, però festeggiare adesso a giugno credo che dia il senso di un grande lavoro. Assolutamente, diciamo che siamo contenti perché sono stati 10 mesi di lavoro, non so in quanti hanno lavorato i 10 mesi in queste categorie, però è vero, partito dall'inizio con ragazzi molto disponibili, la vittoria oggi è da loro, perché bene o male gli artefici sono loro in campo, quindi se lo meritano, sono un gran bel gruppo, un gruppo di amici e se non sei un gruppo di amici fuori dentro dal campo non ottieni questi risultati, quindi bravi loro assolutamente. Troppo presto per chiederti l'anno prossimo? L'anno prossimo, sicuramente. Ci giochiamo la prima... Andiamo a divertirci, vediamo come andrà, sicuramente cercheremo di allestire un gruppo per far bene e per rendere la nostra anche in quel campione. Grazie mille mister. Grazie a te.